Siamo in collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di parlare delle condizioni meteo che caratterizzeranno questo fine settimana, puoi aggiornare i nostri telespettatori sulla situazione attuale del tempo? La Campania è interessata da un campo di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato, con ventilazione scarsa e temperature molto miti nelle ore diurne. Alta pressione che, tra sabato e domenica, subirà un cedimento sul suo bordo orientale a causa della discesa di un impulso di aria fredda proveniente dalla Scandinavia. Va sottolineato che l'obiettivo dell'irruzione fredda non sarà la nostra penisola, pensi i Balcani e la penisola ellenica, come si può evincere dalla cartina successiva. Tuttavia, la nostra regione subirà gli effetti a partire dalla giornata di domenica 5 gennaio, con un rinforzo del vento da nord-est e una diminuzione delle temperature. Calo termico che sarà avvertito in virtù dei valori elevati che registreremo tra oggi e domani e, soprattutto, a causa di una sostenuta ventilazione che acquirà la sensazione di freddo. Ma assolutamente non possiamo parlare di ondata di gelo e, tanto meno, di freddo rilevante. Purtroppo, nei giorni scorsi, molti soggetti che si occupano per hobby di meteorologia avevano annunciato una severa ondata di freddo con gelo e neve sull'intera penisola. Consentitemi di dire che la meteorologia è una scienza e come scienza non ammette improvvisazioni. Le previsioni vengono elaborate utilizzando il metodo scientifico che impone un limite temporale. Limite temporale variabile che dipende sia dallo stato iniziale in cui versa l'atmosfera e sia dal tipo di evoluzione prevista. Generalmente, tale limite è fissato alle 72 ore per le previsioni e a 120-144 ore per una tendenza. Inoltre, le analisi modellistiche vanno studiate ed interpretate e non osservando solo i colori sulle mappe prima di elaborare una previsione. Per domani, sabato 4 gennaio, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte la formazione di nubi basse al primo mattino lungo la costa. Durante la notte, dense foschie e locali banchi di nebbia interesseranno le aree vallive, temperature senza particolari variazioni, con tendenza a lieve diminuzione dalla serata, venti deboli di direzione variabile, con tendenza a disporsi da nord-ovest dalla serata, mare poco mosso, tendente a mosso. Per domenica, 5, condizioni di cielo poco nuvoloso, con tendenza a moderato aumento della nuvolosità sul settore orientale dell'Appennino, dove, nel corso del pomeriggio sera, potrebbe verificarsi qualche debole ed isolato piovasco, con spruzzate di neve oltre 700-800 metri. Venti in rinforzo da nord-est, temperature in diminuzione, sensibile dalla serata, e mare mosso. Per lunedì, 6 gennaio, giorno della Befana, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Venti forti da nord-est, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Temperature stazionarie, su valore al di sotto della media del periodo. Mare mosso, con moto ondoso in attenuazione. Da martedì, l'alta pressione si espanderà verso Levante, inglobando, nei giorni successivi, l'intera nostra penisola. Sulla nostra regione, dunque, si aprirà una lunga fase di tempo stabile ed ambiamente soleggiato, anche se ritorneranno le foschie e nebbie in pianura e nelle vallate interne, durante la notte e al primo mattino. Ma, per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti